Cedo Viaggia E' arrivato finalmente a Milano, si guarda attorno, cerca di capire dove deve andare Usa il navigatore per trovare il parcheggio in Milano dove ci siamo dati appuntamento Io sono già sul posto che lo aspetto, speriamo che arrivi presto e noto che a me non piace aspettare Salve, io sono Gino, abbiamo organizzato questo viaggio in Italia dalla Macedonia Un viaggio nato dalla voglia di vedere, assaporare, respirare la cultura culinaria italiana Io sono italiano e do nell'anima questa cultura Ci sono nato, questo modo di fare è di pensare al cibo Con questo viaggio daremo modo anche al mio amico Cedo, Macedone che fa di professione il cuoco di cucina italiana e che lo fa molto bene di assaporare di persona questo mondo del cibo italiano e del nostro modo di cucinarlo e di servirlo Ciao Buon milan, benvenuti dort a Milano Adesso siamo con unaerella e sparate canaleハ cendo molto bene di sop judges universale espo milano 2015 ci siamo fatti un bel giro per la grande milano è veramente da vedere qui siamo in piazza duomo alle nostre spalle la grande e ben conosciuta cattedrale di milano il duomo di milano bellissima vi racconto un po di storia di questa chiesa l'idea venne nel 1387 all'allora archifescovo di milano antonio da saluzzo egli progettò di costruire nel posto dove sorgeva allora la chiesa di santa maria maggiore un grande duomo dedicato intitolato alla santa maria nascente così come oggi si chiama questa chiesa nel periodo degli sforza signori di milano venne costruito il bellissimo agugliotto dell'amedeo e le bellissime detrate dopo il 1650 si giunse al completamento del tiburio con la grande guglia della madonna la famosa madonna di milano questo grand'uomo a cavallo è il fu primo re d'italia riunita vittorio emanuele ii qui siamo nella famosa galleria di milano galleria vittorio emanuele ii il pavimento è a mosaici di marmi pregiati cedo guarda a bocca aperta le volte di questa grande galleria con gli affreschi di grandi artisti che rappresentano le quattro parti del mondo al piano terra negozi lussosi ristoranti bar eccetera questa galleria ci porta da piazza d'uomo a piazza beccaria la piazza del teatro alla scala e dove si trova anche il palazzo del comune di milano qui al centro di questa piazza c'è il monumento del grande leonardo leonardo da vinci il toscanaccio più famoso nel mondo il grande scienziato il grande artista dipinse la gioconda che si trova ora nel museo del louvre a parigi e tantissime altre grande opere come l'ultima scena di gesù ecco questo è il famoso teatro alla scala è il principale teatro italiano e riconosciuto in tutto il mondo questo fu costruito nell'anno 1776 per volontà dell'imperatrice maria teresa d'austria che governava a quel tempo anche milano adesso siamo in piazza castello quello di fronte il famoso castello sforzese è uno dei simboli di milano e adesso andiamo all'espo il presidente del consiglio di ministri della repubblica italiana matteo renzi dichiarazione di apertura esposizione universale expo milano 2015 come avete intuito dichiaro ufficialmente aperta l'esposizione universale expo milano 2015 ciao a tutti Espo Milano 2015 Le esposizioni universali iniziarono a Londra nell'anno 1851 Nell'anno 1889 si tenne a Parigi e fu in quell'occasione che si scostruì la Torre Eiffel Oggi questa torre in ferro è il simbolo di Parigi Qui a Milano hanno costruito su un'area di un milione di metri quadri E' il più grande evento che si sia mai tenuto nel mondo sulla nutrizione Sull'alimentazione dei popoli E' una vetrina mondiale in cui i paesi mostrano il meglio delle proprie tecnologie Per dare una risposta all'esigenza della vita Qui espongono 140 paesi di tutto il mondo 21 milioni di visitatori dal 1 maggio al 31 ottobre 2015 Abbiamo parcheggiato lontano circa 10 chilometri Abbiamo parcheggiato ad Arese, città vicino a Milano Adesso siamo in fila per comprare il biglietto dell'autobus Si comincia con le file Dovremmo abituarci Oggi aspettamenti in fila Dovremmo farne tanti Ah, ecco l'autobus Si parte Adesso siamo dentro l'Expo Hai voglia di camminare Qui sono esposti i padiglioni di tutti i paesi del mondo Abbiamo cercato la nostra Macedonia Ma non c'era Come si è detto Il tema di questa esposizione universale è Nutriamo il mondo, energia per la vita Quanti padiglioni Quanti padiglioni Veramente grande Veramente bello e interessante Vedi la fila per entrare nel padiglione Italia? Forse 500 metri Chi ci riesce ad entrare Chi ha tanta pazienza Aspetta almeno quattro ore Conringo il mondo Offro Super Conringo il mondo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci siamo informati dagli addetti dell'assistenza dell'Espol. Secondo loro oggi i visitatori sono circa 200.000. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso siamo nel padiglione zero. Vedete le pareti di questi stand? Sono senza interruzione. Tutto un film con il quale si informa il visitatore sul cibo che nel mondo si produce e si consuma. Si informa sulle attuali storture. Infatti circa un miliardo di persone non hanno cibo a sufficienza, mentre un altro miliardo di persone hanno il problema opposto. Mangiano troppo e si ammalano di obesità o di sbagliata alimentazione. questo espo è incredibilmente interessante. C'è tutto il mondo in un posto qui si incontrano migliaia di culture, centinaia di stati. qui a Milano hanno scritto la carta di Milano. L'hanno scritta gli esperti e i rappresentanti di tutti i popoli del mondo. Con questo scritto hanno voluto dare un monito a tutti i governi e i popoli del mondo per rimuovere le ingiustizie che ci sono anche e soprattutto nel campo alimentare. per progettare uno sviluppo che risolva il problema della fame e che sia uno sviluppo sostenibile a garanzia della preservazione dell'integrità del pianeta Terra. che spoglie mi arriva al profumo la pelle del luto che inebria non solo ho capito chi sei dopo Milano e la visita all'Expo siamo giunti a Firenze la mia Firenze capitale della Toscana Firenze e la Toscana è la regione del buon mangiare e del buon vino oltre a luoghi di arte e di storia adesso siamo nel centro di Firenze questa è la cattedrale Santa Maria del Fiore il Duomo di Firenze Duomo deriva dal latino domus cioè casa casa del Signore casa del Dio Cristiano La costruzione del Duomo di Firenze fu ordinata dalla Signoria di Firenze nell'anno 1296 la costruzione terminò dal punto di vista strutturale nell'anno 1436 alla progettazione e direzione dei lavori furono impegnati vari importanti architetti e artisti di quell'epoca Arnolfo di Cambio Giotto il Talenti di Lapo Ghini poi il completamento con la più grande cupola in muratura mai costruita al mondo il progettista fu il grande Brunelleschi al suo interno è visibile la più grande superficie decorata fresco esistente al mondo 3600 metri quadri la eseguì Giorgio Vasari qui siamo nel centro storico della città qui è ancora possibile rivivere la atmosfera dei tempi passati di Milano sono arrivati in Firenze Firenze è la capitale della nostra Toscana sì ora ci sono stati in più 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 quindi noi ci vediamo molto interessante come per Firenze mi è molto chiaro perché è molto grande storia ma è molto importante ogni momento in dettaglio e vediamo cosa si fanno Mastrinovo cosa si fanno vino cosa si fanno Furentina cosa si fanno cosa si fanno cosa si fanno il nostro tour è che si fanno vedere le città di Toscana le città di Toscana e la città di Toscana e la città di Serovac con questo potrebbe realizzare questa città di Toscana e anche in questo momento che vediamo qui città di Toscana da una storia in questa storia in questo momento è una storia anche la storia è una storia di Toscana da una storia e poi la storia è una storia ok grazie Percepire i sapori e gli odori dei prodotti genuini di una volta, la poesia della vita cantata dai vari poeti e scrittori che hanno più volte citato Firenze nelle loro famosissime opere. Firenze è la città del rinascimento e dell'arte italiana. Grazie al suo patrimonio artistico è una delle città più visitate al mondo. Qui a Firenze esistono anche altri importanti luoghi di arte e di storia. La Cattedrale di Santa Maria Novella, quella di Santa Croce e poi la Galleria degli Uffizi e poi il Ponte Vecchio, Piazza della Signoria che è la piazza dove si è svolta la storia di questa città. La Cattedrale di Santa Maria Novella La Cattedrale di Santa Maria Novella e ora si può fare. Adesso proviamo? Ma tu sai una roba? Che? Questo è il ristorante. Il gaso è Makedonese. Adesso parlare? 25 anni ha fatto in Firenze e quello che ti presenta il gaso, è il nostro Makedonese. Adesso. Buongiorno. Grazie per te. Puoi da te? Puoi. Buongiorno. 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 Qui si rade. So qualità di sire. E non si non si non si può fare niente. E non si può fare niente. E non si può fare niente. Sì. All'italiana. Delle persone che non si può fare niente. E anche se non si può fare niente. E non si può fare niente. Invece. Invece. All'italiana. Invece. 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 Quindi eri un ragazzino? Sì, 20 anni. E come hai fatto ad avere il coraggio di partire da solo se sei venuto a Firenze? Sì, inizialmente da solo, poi dopo abbiamo alcuni amici di scoglie, di vestire. E quindi, ma tu già eri nel campo della ristorazione? No, nel campo di bar. Ah, in bar, in bar. Il primo locale era un locale per gli studenti, soprattutto, va bene, sono 92, fino a 92 anni. Appena dopo arrivato, eri in Piazza Duomo, un posto bellissimo, l'hai visto? No, non l'ho visto in questo locale, però Piazza Duomo, l'ombelico del mondo. Sì, sono stato molto fortunato. E come hai fatto uno straniero che arriva qui, che ci sono tutte le procedure per essere registrati, avere permesso di soggiorno, per poter lavorare? Quindi sei riuscito a fare qui. Non era abbastanza veloce. Abbastanza veloce. A quei tempi andava ancora bene. Poi è arrivata la legge, bossi fini, salto, tagliato. È un po' più difficile. Sì, certo. Pensa che sono arrivato qui con il passaporto di Goslar. Ancora con il passaporto di Goslar. Sì, cambiato subito dopo. Quindi la Macedonia praticamente nel 92 stava nascendo. Più e meno, sì. Perché il padre della Macedonia è nata nel 93. Perfetto. Quindi dal 92 lui lavora a Firenze nel campo della ristorazione e adesso quanti locali hai? Cinque. Cinque. Sei un grande, sei un grande. Ti fa molto piacere. No, più ristoranti più lavoro. Sì, certo. Io lo so che un ristorante non ti dà mai pace. No. Cinque ancora meno. Cinque ancora meno. Un ristorante non ti dà mai pace, figuriamoci cinque. Gestire, prima di tutto, gestire la qualità del cibo, gli acquisti delle materie prime. Poi gestire tutto il personale e gestire i clienti. Bisogna avere le persone giuste a posto giusto. Sì, questo è fondamentale. Ma molte volte non le trovi, quindi ti devi arrangiare con quello che hai. La parte più difficile è quella. Noi siamo in più e meno cinquanta in questo mondo. Allora, tu che imamo italiansca hrana. No. Vi dicevo. No, no. Lo toscano. Svelo de toscano. Tipico toscano. Tipico toscansco preliade. No, no. Prosciutta, cioè crudo. Prosciutto crudo. Abbiamo il salame toscano. E poi abbiamo la finocchione. E poi abbiamo la finocchione. La finocchione è il salame, però è fatto, se bravi, su seme di finocchio che la Macedonia mangia che io non so vivo. E poi abbiamo il salame, il salame, il salame e il salame. E poi abbiamo il cascaval. Pecorino. Pecorino. E abbiamo tre tipi. Pepperoncino. 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 Al peperoncino. Noci. Con le noci. Con le noci. E questa media stagionatura. Media stagionatura. La bruschetta famosa. La bruschetta a Pozna. La bruschetta su pomodoro in Bossilo. In Massina Uglia. La bruschetta su Porcini. Cioè su Bergan. E bruschetta su Endem Patè Toscano. Che sei bravi. Su Jiger. O Pile. O Pile. Su Sole in Oliva Marco. Le bobi adoro. Quanti su calledi Apo. E poi siеты. La bruschetta. La bruschetta. Napa. SORE. IEOMA. 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 C'è tutto, vedi, buon appetito. Morano da jadimo da veiciamo na brsini da chiamo a lavorare Brsina, vremekto che si deve ma che si deve, ma che se sveglie che attraverà che si deve lavorare Che lavoriamo, che jadimo Grazie per la visione!